Parli in tuo parlo io gioco Vai parlo Vai parlo Bella a tutti ragazzi Bella Bentornati in un nuovo video Sono Francesco Siamo Siamo in S Arena con Marco Master Master XD Adesso faremo delle partite Ragazzi cerchiamo di arrivare In Arena 2 Dopo faremo Altrash Royale E Tramalink Social Raga inizio la partita Questo gioco è molto carino È iniziata la partita raga Raga adesso siamo in Arena 1 Perché ce l'abbiamo da pochissimo tempo Adesso è iniziata la partita Raga dovete Premere su altri personaggi Poi si tira Avvicinandovi Tirate Premete il pulsante Tira E poi Fate così È gol Raga da campioni Vai addosso Navas Abbiamo un Navas Che è una meraviglia Proprio E' un scherzo Tira Ragazzi Dopo andremo Su Clash Se volete sapere La canzone di sottofondo Si chiama Fade Se voi fate video Scrivetelo nei commenti E vabbè Adesso si attacca Raga No Cavolo Ecco Preso il pallone Io Oh Che fail Raga No Si va addosso Poi contrasto sul piede E me la prendo io No No Non ce la fa Beh c'è Fa un tiro brutto Raga vai No No Patricio Tira No no Non ce la facevamo Tira Ma devi fare Sempre così Così poi Si rimane sul contrasto Fai così Va bene Raga vi consiglio Di andare sempre Su I lati Che questi C'è Non sanno tirare Proprio Sono troppo scarsi Raga Dopo continuiamo Dei video Di Al Clash Royal Ma non facciamo Solo live Anche video montati Sané 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 Dorme E comunque Ragazzi Seguite anche me Sul mio canale Non faccio video Da tantissimo tempo Raga Non ho tempo Perché inizia la scuola Ecco raga Abbiamo avuto il tempo Raga L'abbiamo parata E si va avanti Miranda Ci stiamo Una a zero Ma lui Scaccia Raga Dopo faremo Clash Royal E andiamo a fare Come volete Ho uno Verso a su uno Ah raga Io ho avuto Un baule leggendario Raga Dopo ve lo farò vedere Tira No L'apparata Allora Perché Da me Cioè Da me sulle missioni Abbiamo Ho preso Baule leggendario Attenzione No L'apparata Ancora Sanè Sanè E l'apparata Ancora No L'apparata Ancora La palla Diventa Sempre più grande Raga Quando fate così Raga Raga Nove Otto Sette Sei Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Vittoria Capodanno 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 Raga Sblocchiamo Sblocchiamolo Tre secondi Vabbè Raga No Tre minuti Vabbè Raga Adesso andiamo In Clash Royale Clash Royale Non vi preoccupate Vabbè Dopo Tre Un League Soccer E poi Di nuovo Se ce la facciamo Dovremmo fare una live Massimo Di dieci minuti Oh raga Si apre il baule Raga Non mi vedere le missioni Baule leggendario Però Ci vuole molto tempo Eh raga Dovete aspettare A fare queste cose Raga No 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 Ancora devo Allora Aspetta ti faccio vedere una cosa Raga Raga vi farò vedere C'è tipo un bug No 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 Ho tenuto già Va bene E' un bug C'è un bug Che a volte prendendo Cliccando su due cose Te le da Provateci Perché a volte Raga guardate E' verde E' il diamante Si Ma non va Passa Passa Eh raga E' finito Da sottofondo Eccomi qua E' raga Siamo ancora In live Andiamo No Marco Andiamoci Andiamoci Vieni Ci abbiamo più dentro Mettiamo roba Qualcosa Piggia qualcosa Ci metti Ci metti Metti qualcosa E basta Ci metti Il predo E raga Siamo ancora in live Non vi preoccupate Noi non vi lasceremo mai Da soli Eh raga Eccoci qua Siamo ancora in live Mettila legna Mettila legna Non è che non sai Raga Siamo ancora in live E quindi E' sempre un bug Non è un bug Marco Marco Questa Questa E' pallone E' pallone E' pallone Raga Siamo ancora qui Metti il cuscino dietro Mi sa mancato Eh raga Vorremmo correre la battaglia Ma non meglio di no 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 Facciamola raga Un due verso su due No Ragamo questa Ricomincerà tra Un paio d'ore 21 ore 21 ore E 18 minuti Allora Ragamo andremo A fare Vediamo Ah Leonardo 2.0 Stai giocando Raga Mo si rimetterà Il sottofondo Che Di l'hai partito Eh Perché Abbiamo cambiato stanza Per problemi tecnici Eh Di l'amo Dovranno giustare Perché se l'abbiamo rotta la televisione Per sbaglio Non era la tv Cioè Sì 3 Eh raga Aspetta Tu continui il video Sì raga Lo consentì Metti così Metti così Eh raga Mo faremo la partita Partita veloce Perché Mo Leonardo 2.0 Stai giocando Stai giocando Vediamo Che partita Ah non sei Schifo Vabbè A volte si trovano Sti compagni Scassi Eh ma guarda Che è un cinese Questo Eh lo cinese Fa forte Poi siamo su un computer Questo tiene pure la fuorilegge Ma cacchio ho mancato la fuorilegge raga Noi raga è difficile eh Questo tiene Ma che cosa Che cosa posso Cacchio ho messo Ah Non sai Va bene Subito ho perso Raga perché Questo cinese è ancora Storzino È successo Cioè Raga Allora Non ci credete Raga Se mai Oh una missione Missione Baule 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 Raga Tre opzioni Gemme Farà niente Raga Voi Ma ce l'avete Cambia di una sfida Perché vedi qui Il pallone Questo ci vogliono Giocate carte Nonostante Meno 6 Elisir Deve usare 6 carte 30 carte Che costano 6 Di Elisir Meglio di no Io non la farei Io la do Ma tolgo Ma tolgo Ehm Ma raga Se l'audio Lo è così Perché Come facciamo Vincere Ah no Raga Ci vuole Le leggendari Ci vuole Rara 60 volte No Una Verso S'uno La faccio Faccio Una partina Una Verso Marco Ma spegnilo Qualcosa Marco Va bene Questo deck Vieni te lo faccio Io uno Bello Mentre Allora Lui Alla forno Che aveva Di leggendarie Il boscaiolo Un deck Con il boscaiolo Si Un deck Buono C'è L'ho visto Da uno youtuber Però Non voglio Sponsorizzare Da un youtuber Inglese Da inglese Però lui Non sa parlare C'è Ho visto Il deck Non ha capito Niente Il deck C'è Me ricordo Solo due truppe No Una truppa Una truppa Sì Che era Solo il boscaiolo Questo deck Poi il resto Me lo sto inventando Se riusciamo a farlo Iscrivetevi Molti Vogliamo Molte iscrizioni E questo 13 minuti Raga Partita veloce Raga Master Master Boom Mamma mia Raga Questa Raga Siamo a 13 minuti Di live Nessuno Lo segue Chi sa perché Facciamo così Raga E La Guarda Master Ho messo La torre Infernale Chi Io Qui Bravo Adesso devi partire Un po' Un po' D'aereo Lo sta Sotto Valchieri Ha morto No 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 Quanto Nel prossimo Video Raga La Oh La Cimitero Quanto Danno Un po' Di danno L'ha Fatto Eh Raga Lo butteremo Il barbarico Nel Questo Cazzo Raga E Lo Butto Finalmente Eh Raga Però Qui È Un problema È Un problema Un problema Un problema Questi Pipistrelli Che Si Mettono Sempre Avanti 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 Sempre Ah Ha Troncato Ha Troncato Ma Le Allora Raga Ecco Raga Qui Ce la Possiamo Fare Ce la Possiamo Fare Eh Ma Ma Questo Dai Costa Cura Vabbè Oh Strega Oh Master Wood La Bomba Va Raga Raga Ops Zappa Zappa Non sa Parla Sprecare Quando Vengono Tutti Vicini Che Mette Un'altra Truppa Adesso La Macchina Volante È Una Carta Nuova Raga È Molto Buona Perché Tu C'è Il Livello 2 È Buona Sembra Scherza No È Buona Buona Eh Raga C'hanno Fatta La Tour La Prima Vabbè Ma Ne Faremo Un'altra Perché Questo Tiene Barbari Dieci Barbari Scelte Dieci Io All'otto E So Buona All'otto Eh Raga Non Pensate Che So Che Le Lasciamo So So Raga Oddio Raga Ci Andiamo Forti Andiamoci Forti Master 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 Vittoria No No Master Oddio All'ultimo All'ultimo Tutto All'ultimo Tutto Vieni Master Master All'ultimo Tutto All'ultimo Tutto Master Con Tutte Le Trubbe Master Sponsorizzate Raga Sponsorizzate Scusate Per la Parola Un po' Schema Non Non Sono Come Le 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 Stavo Parlando Di Una Cosa No Raga Quarto Bravest Oddio Raga Però Questo Sponato Milioni Milioni E Miliardi Di Rob Oh raga Ce la facciamo Forse Questa la pareggiamo Forse Si pareggiata 100% Si raga Master Raga Stiamo 17 Nudio C'è Una live Meno Di Mezz'ora Oh Chiediamo La Rivincita No No E Mo Ci Aspetta Vediamo Quanto Ci danno Qua Quello Dice Una cosa No Si fa Con questi Ci devono uscire Questi puntini Qua Quali punti Questi Così Ok Questa La togliamo Perché Ci vuole un sacco Di tempo Ha già cambiato Una missione Gioco Con Corte Rara Le Uno contro Uno Però Eh L'ho fatta Uno contro Uno No Tu hai fatto Due contro Due E questo Uno contro Uno La battaglia Normale Sarebbe Tu hai fatto Ah Perché abbiamo fatto Partito E master Andiamo In battaglia Da 3008 Scendiamo Poi In arena Nove Però Ma io Di no Da 3008 Io Di no Scendiamo In arena Nove Sì Vabbè Ma sembra Qualcosa Di arena Dici Può uscire Può uscire Qualcosa Di arena Dici Perché Sono Stato In arena Dici Mo Se io Mostro Un altro Poi In arena Dici E faccio Dele battaglie Due Verso Due E mi Esce Qualche Carta Di Una Tipo Ah Ma io Ho visto Che le Tengo Tutte Due Le Carte Io Posso Anche Scendere In arena Nove Master Perché Sono andato In arena Dici Tengo Le due Carte Sì Ma ti manca Ancora Il Eh È Gran Cavaliere Però Sempre Me lo Può dare In arena Nove Se Mo Faccio Questo Baule Leggendario Me ne Darà Due Leggendarie Uno Ha detto Leonardo 2.0 Allora Uno Non fa Niente Però Uno Verso Uno Allora Raga Passiamo Siamo stati già da tanto Su Clash Royale Passiamo a altri giochi Passiamo a Tram League Sogero Guarda Raga Questo sono il più forte Master Eh Raga Eccoci Ah Ecco Però Non compro Già sto a Siamo stati già da Sì Ma Sì Sì No Domani Vieni Mi pare Vieni Marco è master no non si chiama marco mi confondo sempre con un nome scemo lui si chiama master è un vero nome master se andate a cercare su youtube sono molti master raga gioco 1 a 0 mamma mia che ha segnato raga poi è perfetto forse facciamo anche video sulla playstation raga però io me la potrei vendere raga prendetela è molto buona è una ps4 è una ps3 si ma la loro fanno è una ps3 vi do tutti i giochi che tengo e la vien da 100 o a 110 o 120 o da 100 faccio uno sconto dal dal almeno dal 100 a 100 110 105 no da 120 no da 130 da 100 a 130 uno sconto da 100 a 130 di più no da 130 no da 130 si ma come la fanno a comprare ma già vi verso la cosa bravo c'è ma ti manca un figlio master lo chiamo poi eh 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 no no marco eh master mo io faccio così lo compro il filo mo mo a natale compro il filo capito? dopo i 15 giorni compro il filo e la vindo capito? o a natale la vindo e la vindo ma io ho detto a natale la vindo raga quindi verso natale la potete prendere la playstation e la ps4 e la ps3 non è scesne non vi consiglio scesne mi parla solo qualcosa raga scrivete sotto i commenti come volete fare qui una formazione come volete la formazione? ecco qua raga volete va bene la ah raga raga io ho fatto così oh guardi siamo a 23 minuti di live raga però tra 10 minuti finiamo forse che non abbiamo fatto quasi niente in 23 minuti non abbiamo fatto niente raga cioè nessuno voleva giudizi raga oh la pasta di bravo vinci il tacco raga è molto facile la bicicletta dopo ve la farò vedere in allenamento colp un po' c'è l'uca c'è l'uca scrivete sotto i commenti ragazzi potrò parlare nel prossimo se devo parlare o non devo parlare nel prossimo giro vedete scrivete sotto i commenti oddio raga io so un bel tiro ecco e dopo io voglio fare una cosa facciamo così allora facciamo così oh marco per caricare allora metti sotto dopo lo vogliamo caricare qua sopra mettiamo tutti i video eh si si ti conviene ti proviamo a vincere rigore 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 raga oh raga se voglio mille mi piace raga è un attaccante è Cristiano Ronaldo questo è sceso raga 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 ma chi so ma chi è questo chesni è Ronaldo è Messi nel prossimo video raga 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 se vado al 5-0 raga con raga un 5-0 all'ultimo minuto raga con il bravo vediamo chi ha segnato scesni mamma mia cala calaion di bal e rosario calaion di bal e rosario raga 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 vedete un attimo qui poi vi faccio vedere della cosa sull'allenamento e chiudiamo i video allora raga la mia squadra si qui qua vi farò vedere una cosa come si fa la bicicletta allora raga la bicicletta dovete mettere un dito lo dovete buttare in avanti quello fa la bicicletta a volte fa anche le skill hai visto raga? con solo un dito eh no di bala ma che? tirano pure ehi bades oh che faba des Marco una foto una foto una foto e raga tra un minuto finisce il video e no raga raga i bambini raga raga di bala parata di ciasni e messi la puta voros ora andremo a far vedere le punizioni i bravi e morci ho il 92 raga è molto bravo ho provato solo una punizione ma era lontana raga crossbar la pia ma piazza la crossbar raga ibra no 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 quello quello è della grecia quello è della grecia quello è della grecia eh andremo sui calci d'angolo ah raga ce l'ho fatto raga raga il master mamma mia di bala la parata questa è una mia messa raga che c'è la lunga con lì si pesca la parte ma no sempre di bala raga raga non pensate che sono di bala è forte raga 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 il ricordo è come la bicicletta come ho detto con il dito dovete puntare da qualche parte e raga è finito qui il video alla prossima bella che lo via Grazie a tutti.